Per il 76esimo anniversario delle quattro giornate di Napoli, il Comune promuove un programma di iniziative culturali già avviate in città e che proseguiranno anche nei giorni successivi alla ricorrenza. Alle celebrazioni solenni di domenica 29 settembre si affiancano eventi, spettacoli, proiezioni realizzati in collaborazione con l'AMPI e con l'Istituto Italiano per la Storia della Resistenza Vera Lombardi. Presentato questa mattina in Sala Giunta con l'Assessore alla Cultura Nino Daniele, il programma si arricchisce del contributo di associazioni, enti e personalità del mondo culturale. Da segnalare lunedì 30 settembre l'intitolazione al regista Nanni Loi nello slargo antistante l'Accademia di Belle Arti. Sono i giorni in cui un intero popolo scelse la libertà, scelse la dignità, scelse di liberarsi con le proprie forze, il proprio sacrificio dagli occupanti nazifascisti. E come ogni anno noi cerchiamo insieme a tanti artisti, associazioni, scuole di fare di queste giornate un giorno di riflessione, un giorno in cui riprendiamo ad impegnarci sulle contraddizioni e gli orruri del presente. Quest'anno abbiamo al centro ovviamente una data molto importante, quella dell'inaugurazione a Nanni Loi, del largo Nanni Loi presso l'Accademia di Belle Arti. Sì, ma soprattutto per noi quest'anno c'è stato con forza l'impegno e con la collaborazione di tanti artisti a mettere al centro di questa celebrazione delle quattro giornate il teatro civile. E' in particolare un teatro che ci racconta di storie di discriminazione ma nello stesso tempo di storie attraverso cui il popolo napoletano mostra questo suo straordinario volto, il volto dell'accoglienza, dell'integrazione.